Ok, adesso devi dire ciao Ciao Finalmente sono con Dimitris e... Fotis Il compagno di Dimitris e di Fotis Perfetto, dopo una season dopo una cazzo di stagione siamo di nuovo a pescare e oggi andremo a fare Barracuda e Lampuge Barracuda e Mahi Mahi Ragazzi siamo arrivati nello spot di pesca come al solito i posti di Dimitris sono sempre complicatissimi loro sono di là che stanno montando l'attrezzatura sappiamo che ci sono dei grossi Barracuda utilizzeremo il nostro giugolo il Long Jerk e vediamo se riusciamo a prendere qualche bel pesciolino Raga Raga è successo Raga mi ero fermato un attimo non ci credo raga è successo non ci credo è successo è successo mi ero messo un attimo a dormire raga è successo incredibile Barracuda è successo giuro raga è lo stanchissimo mi sono appisolato un attimo e l'abbiamo preso dai che ci mettiamo a pescare adesso dai allora ragazzi Fotis e Dimitris mi stanno letteralmente rompendo il culo mi hanno preso due Barracuda a testa e io una minca guarda sono lì che destra sono un barracuda ma io ora lo prendo raga non me la fai a noi sono felice finalmente ho preso il mio cazzo di barracuda dopo un lungo tempo ho preso il mio cazzo di barracuda dopo tantissimo tempo ahahahah sono troppo contento ok sono troppo sono le po' sono le po' si è una cosa grande Fai un po' di fissi. Yeah. Yes, è una buona cuda. questo è una barracuda sì sono molto felice grazie Dimitri ragazzi Dimitri ce l'ha e io l'ho appena preso ragazzi è più di pesce ecco 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 no 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 Stilo Cuidate Stilo Stilo POSSIBLE NENTA ALEGANDAL POSSIBLE SPOKE ALEGANDAL Ciao ragazzi Siamo andando per un nuovo giorno di fissi Siamo arrivati Dimmi Ciao Che cazzo succede Porca puttana Chiudi Riccardo Chiudi Riccardo Cosa Oh 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 no 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 Che cazzo è successo Che cazzo ha preso Oh no Che cazzo ha preso Che cazzo 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 Bene La stagione è finalmente finita Perché finalmente Perché comunque è stata una stagione in cui Per via del lavoro che avevo fino a qui Non sono riuscito a pescare tanto Naxos è un posto pieno di pesci Pieno Però devi saperli trovare E Avendo la fortuna di stare con Dimitris Ogni volta che abbiamo pescato E' andata sempre A colpo sicuro La mia prossima destinazione Sarà in Kenya In Kenya Si andrà in Kenya Molto probabilmente Anzi al 100% E lì comunque si pescherà tantissimo I pesci non mancheranno I pesci grossi non mancheranno Lì Il Vertical Jinging Fa da padrone Ma noi comunque Pescheremo tantissimo anche Con le stick bait Con i classici pelabus Con gli argo Pescheremo in superficie Cercando comunque Di insediare diversi tipi di Beste Animali Da manganza Poi si faranno anche un po' di pescatine da riva Cercheremo di insediare qualche pesce E' difficile Perché lì comunque C'è il fenomeno delle maree E di conseguenza i pesci Saranno molto più difficili da trovare Però non ci impegneremo Sicuramente qualcosina ci sarà sempre E niente Grazie mille per aver guardato Adesso arriveranno nuovissimi video Ci saranno Forse sicuramente in questi ultimi giorni Avete visto un paio di pescati Con quei due bolliti Quindi adesso arriveranno anche quei video con loro E quelli sono belli Quelli sono proprio proprio belli Quindi Niente Light lights Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti